buongiorno buongiorno a tutti oggi 12 agosto 2024 e siamo in una situazione un po critica e devo dire che quest'anno diciamo che ci è andata bene meglio rispetto all'anno scorso oppure peggio però con te secondo me è andata peggio secondo lui è andata peggio però intanto io vi spiego poi al limite il signor laianos vi spiegherà meglio nei dettagli comunque questa è la situazione perché ci si è tipo seccato tutto oltre anche ai pomodori che stanno piano piano facendo il loro corso noi comunque l'acqua gliel'abbiamo continuato a dare infatti qualche pomodoro continua a sopravvivere ma è tutto secco e niente la situazione praticamente è questa cioè tutto secco abbiamo tolto tutto perché non crescevano più di tanto qualche frutto l'ha dato ma non più di tanto e tutto questo perché purtroppo questa zona dove noi abbiamo coltivato quest'anno e anche l'anno scorso è troppo esposta a zona infatti ho già messo a coce e sto già soffa la sauna e quindi diciamo che se noi dovessimo mettere altre piante in questa zona riseccherebbe tutto nel giro di appunto un mese un mese e mezzo anzi abbiamo messo queste piante a maggio ma già da metà luglio fine luglio già qua era quasi tutto secco e mal andato ecco con tutto che noi abbiamo dato acqua e però probabilmente noi abbiamo dato acqua abbastanza che purtroppo c'è un problema di fondo con la pompa del pozzo ossia non posso utilizzare tantissimo l'acqua del pozzo per vari motivi che magari un giorno vi spiegherò quindi abbiamo optato per il momento a togliere tutto quanto e continuare comunque a coltivare ma in un'altra determinata maniera che forse e probabilmente nel prossimo video vi farò vedere anzi vi faccio vedere un piccolo spoiler questo è lo spoiler al prossimo video vi spiegherò come costruire quel vaso e cosa ci abbiamo fatto e niente dal prossimo anno quindi da questo inverno sicuramente questa zona verrà un po' più leggermente spostata verso il centro oppure ci sposteremo proprio in quest'altra zona qui quindi metteremo un po' tutto qua perché è un po' ombreggiato dall'olivo e questo ci fa ci fa molto comodo ci allargheremo anche un po' là da quella zona lì e poi niente l'anno prossimo ci metteremo pure qualcosa per questa zona o compreremo una serra perché fa troppo troppo caldo troppo e le piante non ce la fanno non ce la fanno proprio quindi per oggi è tutto ci vediamo in un prossimo video dove vi spiegherò come costruiremo questi vasi un saluto da Alexio e dall'Aionos bella rega bella oh hai stupato Alexa Alexa stop stopate Alexa fermate Alexa stop Alexa basta Alexa stop stop niente non ha funzionato Alexa buggato Alexa stop ah che cazzo